Almeno il 40% del pesce pescato sugli oceani viene ributtato in mare ed è destinato a morire. Una pratica che la Commissione europea intende contrastare, come conferma lo stesso commissario alla pesca, Maria Damanaki. Ho recepito il messaggio, ma tutti dovrebbero essere coscienti del problema, che non è per niente risolto. La campagna di pesca non è finita, dobbiamo continuare a insistere. La campagna di pesca non è finita, dobbiamo insistere e provare e provare. Hugh Fernley Whittenstall è un giornalista britannico che si batte contro questo spreco sotto l'insegna Fish Fight. Vediamo segnali importanti di impegno a cominciare dal vertice. Maria Damanaki ha detto chiaramente che porre fine a questa pratica è una priorità assoluta della riforma della politica di pesca comunitaria. Il Fish Fight ha dato vita a Bruxelles a una manifestazione contro l'assurda pratica che si traduce nello spreco di specie anche pregiate di pesce. Grazie. 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 Grazie.